Alcune che ho anche letto per rappresentare quali sono le decisioni che fino ad oggi abbiamo assunto in coerenza con le attività che sono state compiute. Ci tenevo intanto a darvi un quadro complessivo dell'attività di individuazione dei casi sospetti attraverso la procedura del tampone o dei test sierologici. Alla data del 15 settembre in Sicilia sono stati 402.836 tamponi effettuati, ai quali si aggiungono i 4.327 che sono in corso di comunicazione al Ministero della Salute, per un totale quindi di circa 407.000 tamponi, a fronte di un totale di casi positivi di 5.306 alla data del 15 di settembre, ai quali ovviamente andranno aggiunti quelli che vengono comunicati oggi dal Ministero della Salute. La incidenza dei casi positivi sul numero complessivo dei tamponi effettuati è pari all'1,32%. Questo primo dato ci consente di mettere in correlazione la attività di individuazione dei tamponi con il numero complessivo dei casi e fare anche un raffronto tra l'attività posta in essere dal sistema sanitario della Regione siciliana e quello che è accaduto anche in altre regioni italiane. Se voi verificate, ma mi pare lo abbia fatto di recente anche l'Università Cattolica in un report che è stato diffuso nei giorni scorsi, il numero nel rapporto tra tamponi e casi vede la Sicilia non certamente all'ultimo posto, come mi è capitato in alcuni casi di leggere, ma vede la Sicilia tra le prime regioni italiane che hanno effettuato nel tempo i tamponi sul numero dei casi sospetti. Perché voglio fare questa evidente puntualizzazione? Perché le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute indicano con chiarezza il caso in cui viene fatto il tampone con l'estrazione dell'RNA virale e non da screening come è stato fatto per esempio negli aeroporti o come è stato fatto in numero molto cospicuo su tutti i migranti sbarcati. Il tampone da screening non viene computato e quindi il numero dei casi testati si riferisce soltanto a quello che è indicato nelle linee guida ministeriali. È ovvio che minori casi positivi ha avuto la nostra regione, minore è stata l'incidenza del contact tracing e cioè delle persone da sottoporre prima all'isolamento obbligatorio e poi al tampone. Se io penso a regioni che hanno avuto un totale di casi positivi di oltre 100 mila, il rapporto con il numero complessivo dei tamponi effettuati sul totale dei casi vi rendete conto che la nostra regione ha saputo compiere un'azione di screening adeguato. A quest'azione di screening adeguato si aggiungono i test sierologici effettuati, è un dato che fino ad oggi non era stato diffuso, nel complesso sono stati effettuati 170 mila 800 test sierologici, vuol dire che nella somma tra i tamponi effettuati e i test sierologici effettuati si arriva a un complessivo di quasi 600 mila casi testati e persone valutate. C'è anche un tema sugli attuali positivi di incidenza della popolazione migrante, anche questo è un dato che nel complesso merita di essere attenzionato perché ha riguardato soprattutto i mesi estivi e ha visto un totale di 450 migranti positivi, a cui vanno aggiunti quelli che sono stati trasferiti prima di effettuare il tampone all'inizio dell'emergenza sbarchi e che sono risultati positivi nei luoghi di destinazione, come ha comunicato il Ministero dell'Interno. Sul numero degli attuali positivi ovviamente questo è un dato che pesa perché ad oggi sono circa 340 gli attuali positivi tra i cittadini migranti che sono in quarantena e che sono ospitati o nei centri o negli hotspot o sulle navi o sulla scuola o all'hotel San Paolo dove sapete c'è un'ampia area di destinazione per soggetti positivi. Poiché l'incidenza della scuola determinerà un ulteriore aumento di questi casi, il Presidente della Regione la scorsa settimana ha disposto anche per la Sicilia il ricorso ad attività di screening con tampone, quello lì di modalità a prelievo antigenico, è lo stesso che il Ministero della Salute ha utilizzato per lo screening degli aeroporti su tutti i rientrati, è stato provato già in Sicilia negli aeroporti, è stato provato sulla popolazione migrante, come vi dicevo, ha dato un'efficacia assai più aderente rispetto al mero test sierologico, la Regione siciliana ha approvvigionato 2 milioni di questi tamponi, il primo milione di tamponi sarà già nella disponibilità del nostro sistema sanitario questo giovedì. La funzione è importante perché le linee guida previste sia per l'ingresso nelle strutture ospedaliere, sia per un numero crescente di casi anche tra gli asintomatici e quindi un contact tracing molto più incisivo e anche la possibilità di intervenire con tempestività all'interno delle scuole, ci ha suggerito la introduzione in aggiunta alle linee guida ministeriali di quest'ulteriore passaggio, non vi sfugge quanto possa essere importante la tempestività della risposta, perché se un soggetto ha temperatura superiore a 37 gradi e mezzo, al posto di paralizzare interamente una scuola o una classe, il test con tampone rapido ci consente di poter immediatamente evidenziare in pochi minuti eventuali casi positivi e quindi sottoporre i positivi ovviamente alla seconda verifica del tampone, chiamiamolo cosiddetto tradizionale. Ma l'approvvigionamento di un numero così elevato di tamponi ci consentirà anche di valutare l'attivazione territoriale di alcune azioni di screening che potranno essere soprattutto in alcune aree con una maggiore incidenza del tasso di crescita dell'epidemia, ci potranno dare un'ulteriore fotografia della realtà rispetto alla quale valutare di mettere in campo anche azioni di contenimento ulteriori rispetto a quelle previste. Un elemento in più riguarda la degenza e la capacità del sistema sanitario della nostra regione di poter accogliere un numero crescente di casi positivi. Anche qui devo chiedervi un livello di attenzione alta sul rapporto che oggi esiste tra il numero totale dei casi e il numero dei soggetti ospedalizzati. Avete tutti seguito con Acume giornaliero la fase iniziale dell'epidemia nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio e sapete che questo rapporto era significativamente alto, tant'è che noi nel calibrare la offerta ospedaliera per malati Covid avevamo adeguato il nostro standard a un rapporto che avesse una forbice tra il 30 e il 40% dei casi totali, a fronte di 100 si prevedeva la necessità di poterne ospedalizzare fino a 40. Oggi i numeri sono diversi, a fronte di 1800 attuali positivi che con la giornata di oggi cresceranno attorno ai 1900, gli ospedalizzati sono alla data odierna, quindi escluso il report che verrà comunicato nel pomeriggio, complessivamente 136 ricoverati e 16 in terapia intensiva. Quindi si assiste ad un impatto molto più basso del livello di ospedalizzazione, il che vuol dire anche che è corrispondentemente cresciuta la capacità del sistema del territorio di andare ad accertare il più possibile, evidenziandolo il caso positivo anche se asintomatico, vedete che il rapporto di 9 a 10 tra asintomatici ospedalizzati circa è un rapporto fortemente performante, cioè indica la capacità del sistema di effettuare un'azione di contract tracing esigente. Io mi sono voluto portare la scheda ricoveri del 6 aprile 2020. Il 6 aprile 2020 è stato per il sistema sanitario della nostra regione il picco della ospedalizzazione. Noi avevamo ricoverati complessivamente 637 pazienti, in terapia intensiva avevamo ricoverati 74 pazienti. È un dato che io voglio riportare all'attenzione di tutti perché alcuni amministratori, anche alcune forze sociali, nei giorni scorsi hanno paventato la non adeguata risposta ospedaliera in termini di posti letto disponibili. Il sistema sanitario è lo stesso, le aziende interessate sono le stesse, è solo fortemente migliorata la nostra capacità di azione territorio per territorio, la nostra capacità di risposta, la presenza di dispositivi di protezione individuale che all'inizio dell'epidemia furono uno dei grandi problemi che si è dovuto affrontare, esistono percorsi che sono stati sperimentati in quell'occasione e che possono essere immediatamente attivati. Sapete anche che nei giorni scorsi abbiamo adeguato queste previsioni soprattutto sulla città e sulla provincia di Palermo, individuando un modello organizzativo che era stato il modello organizzativo suggerito anche dal nostro comitato tecnico scientifico ed era il modello organizzativo, voi stessi lo chiamaste affisarmonica, l'idea che avendo sperimentato una capacità di azione il sistema sanitario è nelle condizioni di aprire le strutture a secondo del fabbisogno. Per le strutture ospedaliere sarà molto agevole il ricorso ai tamponi di screening più rapidi, perché consentiranno di diminuire fortemente il tempo di attesa nelle zone grigie delle strutture di pronto soccorso, perché sarà immediatamente disponibile una risposta, ma soprattutto le strutture ospedaliere sono già individuate e tutte le strutture ospedaliere conoscono già al proprio interno i percorsi che devono essere seguiti. Allora direte, cosa c'è di differenza rispetto a un piano che nella dimensione più ampia prevedeva il ricorso a oltre 2500 posti letto, la gran parte dei quali non sono poi stati utilizzati? Voi ricorderete che all'inizio dell'epidemia noi abbiamo paralizzato una serie di attività, ospedaliere e ambulatoriali, ciò si è fatto non solo in Sicilia ma in tutta Italia, ma evidentemente ha rallentato l'attività chirurgica, ha completamente azzerato in alcuni casi la presenza dei cittadini nelle strutture di pronto soccorso, ha allungato ulteriormente le liste d'attesa per le prestazioni ambulatoriali. In questa fase, anche alla luce dell'andamento dell'epidemia e di questa cresciuta capacità di riscontro sul territorio dei casi positivi, abbiamo ritenuto che sarebbe un errore non curare chi non ha il Covid. Può sembrare quasi un paradosso, però noi non possiamo permetterci come sistema sanitario regionale e nazionale di bloccare l'attività di ricovero, come accaduto nella fase del picco e abbiamo ragione di non doverlo fare perché ci sono centinaia e centinaia di pazienti che attendono cure e che devono ricevere cure. La questione allora è posta in termini di sicurezza della struttura ospedaliera, adeguatezza dei percorsi che devono essere posti all'interno della struttura, capacità di reattività del sistema ad potersi ampliare anche in 48 ore. Noi oggi stiamo compiendo interventi strutturali importanti in molte strutture, lo stiamo facendo anche utilizzando le procedure previste dalle norme sia di protezione civile che dalle norme del decreto appena convertito dal Parlamento, il decreto semplificazioni che in materia sanitaria riconosce delle facoltà molto ampie per andare in deroga anche alle norme in materia di codice degli appalti. Per cui noi da un lato abbiamo preparato il sistema ad accogliere il numero di pazienti che gradualmente si renderanno necessari, dall'altro abbiamo il dovere di continuare a prestare cure, a svolgere attività chirurgica, a svolgere attività ambulatoriale perché malati oncologici continuano a essere malati oncologici, i cardiopatici continuano ad avere bisogno di cure e quindi, solo per fare due esempi, noi non possiamo incidere da questo punto di vista ad un ulteriore blocco. Servono regole ferree però, le regole ferree ci aspettiamo che vengono recepite da tutti, soprattutto all'interno delle strutture sanitarie, il che vuole dire che continuerà a valere l'obbligo del tampone prima delle prestazioni sanitarie, che continueranno le attività di screening all'ingresso delle strutture di pronto soccorso, che si continuerà da parte delle aziende e sempre di più bisognerà fare a monitorare e a testare il personale sanitario per evitare l'insorgere di focolai nosocomiali e soprattutto bisogna proseguire in maniera intensa l'attività di tracciamento sul territorio. Complessivamente però il quadro che ne emerge è un quadro di un sistema sanitario reattivo, di una capacità di controllo sul territorio che è palesata nei numeri e se mi è consentito anche di un coinvolgimento dei professionisti che si rivelano sempre ogni tanto più maturi di quelli che alzano il dubbio che il sistema non sia pronto. Ogni tanto mi capita di leggere anche le dichiarazioni in senso polemico di alcuni amministratori locali e devo dire che si raggiungono difficili sforzi logici, perché ogni tanto quelli che lamentano che la propria struttura non ha un reparto di degenza covid sono gli stessi che lamentavano che la struttura aveva un reparto di degenza covid e allora la cosa diventa singolare. La realtà è che ci sono dei pazienti, devono essere curati, per i pazienti con il coronavirus deve esserci l'assistenza necessaria ospedaliera, farmacologica e territoriale, per tutti gli altri pazienti deve esserci un'adeguata assistenza che non impedisca l'erogazione delle cure. Ricordo a me stesso che erogare cure significa adempiere a un diritto costituzionale e che i livelli essenziali di assistenza sono espressione di un diritto di ogni cittadino.